Coronavirus, un anno dopo la situazione sembra nettamente peggiorata rispetto ai dati di marzo 2020 in provincia di Agrigento. Oggi rispetto prima tanti contagiati, tanti comuni in zona rossa, altri potrebbero diventarlo e per lo più con l'aggiunta di casi sulla variante inglese. Insomma nulla di confortante con le festività pasquali ormai alle porte. Ma vediamo l'andamento dei dati epidemiologici tra Agrigento, Canigatti, Grotta e Racalmuto. In serata preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Agrigento Franco Miciche e dall'assessore nonché noto cardiologo Giovanni Vaccaro per il ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio per Covid di circa 35 pazienti, di cui la metà di essi ha la variante inglese. I soggetti ricoverati sono sempre più giovani e si è aggiunta una ragazza di 30 anni. I due amministratori immitano alla prudenza, al distanziamento in attesa di vaccinarci tutti. E' sempre il sindaco di Agrigento sul rischio che la città possa entrare in zona rossa in seguito all'aumento dei contagi degli ultimi giorni. Rischio che diverrebbe sempre più concreto se agli attuali 126 positivi se ne aggiungessero poco meno di due decine facendo così scattare il nuovo parametro utile per le nuove misure restrittive. Dichiara che in ogni caso bisognerà attendere la giornata di mercoledì, quando una volta raccolti tutti i dati la regione si pronuncerà. Nel reparto di medicina dell'ospedale Barone Lombardo a Canicattì alcuni pazienti ricoverati e un paio di infermieri sono risultati positivi al Covid. E' stato disposto subito il trasferimento dei degenti all'ospedale di Agrigento nel reparto Covid mentre i sanitari sono stati sottoposti all'isolamento. Il reparto è stato chiuso per consentire la sanificazione dei locali. Attualmente il numero dei contagiati a Canicattì è di 60. Il sindaco di Grotte Alfonso Providenza porta a conoscenza della sua cittadinanza che è un dipendente comunale risultato positivo al Covid-19. Pertanto in via precauzionale gli uffici comunali di Piazza Umberto I sono stati chiusi. Oggi stesso si provvederà alla sanificazione dei locali. A Racalmuto preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale che si sta diffondendo nel territorio con un numero sempre maggiore di casi di positività al Covid ad oggi sono stati accertati mediante tamponi, test rapido, casi di positività e nonostante i divieti sono pervenute nuove segnalazioni di fenomeni di assembramento e aggregazione di persone giovani, adulte e bambini che possano favorire il diffondersi della trasmissione del contagio. Pertanto il sindaco Vincenzo Maniglia e il vice sindaco Angelo Curto con relativa ordinanza hanno disposto la chiusura di tutti i parchi comunali e di tutti i campi di calcio, calcetto e tennis con decorrenza dal 23 marzo e fino al prossimo 9 aprile con l'auspicio di attenersi e rispettare le disposizioni del Ministero in materia di prevenzione per evitare un aumento dei contagi nel nostro territorio. Il sindaco di Racalmuto Maniglia non è nuovo a prendere decisioni del genere già nel mese di ottobre-novembre ha fatto ricorso con delle proprie ordinanze a chiusure che limitassero lo spazio dei movimenti dei cittadini e principalmente dei giovani perché nelle prossime ore è proprio dal mondo giovanile che sembra arrivare la preoccupazione per il sindaco.